Qui prima faccio una serenata e avevo dei canzoni che cantavano e ho pensato che non è più finita, andavamo a promenare l'estate, non sarò. E poi quando andavamo in Massa Esa, perché c'era Massimondo, avevo ancora un'altra marrona, quando ero giovane, ancora un'altra, e poi mi fattava con i miei occhi. Quando c'era una serenata, tutto il mondo andava, e le donne si tette, a mezzanotte guardavamo a mezzanotte, e quando c'era l'uomo ci portavamo all'interno. I giorni andavamo, se non è male, non vieni mica come noi. Tanto portavamo, tante cose, andavamo qui sulle mie mie mie, educavamo e parlavamo. Andavamo a prendere l'acqua noi, non vieni mica. Non mi ha fatto abbastanza corretti i giorni. E poi ci piacciono molto le persone, anche io, le persone anziane, parlavamo anche delle persone anziane, giocavamo a cosi, a lottori, e tutti gli affari qui. Invece che i giovani lavavano e mi direi che hanno i motori, le biciclette. Non nemmeno le stesse, non nemmeno i motori, le biciclette. No, nell'uno e nell'altro. Ah, perché io mi porto a giunità, io spero che tutto si passi bene, non c'è mica bagare e entrare a pronunciare le cose, che è l'altra ragione. Ma va, più si sa, va. E che mi riporto, va. Poi, ero là. Che dì, vieni, beh. E se chi mi ha il figlio, avevo un travaglio, va. A presto. 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 A presto.